Ma visto che siete stati così tanti, molte persone ci hanno portato altri premi da mettere a disposizione della lotteria, noi vorremmo fare e continuare la nostra estrazione, 19esima, 19esima premio, questo pupazzo bellissimo di Bobbio Natale con coperta, che ci ha portato una nostra amica. Vai, 19! 62, 62 giallo! Grazie ad Aranella, orecchini più portacchiavi bellissimi, fatti con le caravine, fatti da lei. Ma siamo serissime, proprio in questa estrazione. Attenzione! E' un turno verde. Grazie alla mamma di Arturino, un quadro più il nostro finaccio che ci ha portati. E lui ci va, chiedevo, 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 chiedevo. E dentro ho anche delle cose. Dentro c'è anche delle cose. E 570 bianco. Abbiamo una farmacia Gosmar, abbiamo una seconda borsa. La farmacia è stupenda, che ci appoggia sempre in tutto, ci dà sempre una grande mano. E' rosa questo biglietto. Il 14esimo premio è un cesso che ci hanno preparato gli amici dell'ABC, che è un'associazione meravigliosa di San Michele Mondovivi. Invitiamo a andarli a seguire sulla loro pagina Facebook e Instagram. Loro sono amanti delle erbe. Hanno creato un'aiuola a San Michele che dovete andare assolutamente a visitare con delle piante incredibili. E' il biglietto che lo vince, il giallo. Ed è il numero. Mi riesco ad aprirlo. Viene la suspense. La suspense è il 359 giallo. Pimù. Trecesimo posto per la sciarpa. Più bigiotteria da Made with Love, che ci ha mandato queste meraviglie. E' il 259 giallo. E' il 259 giallo. Siamo tutti, visto che siete stati in tantissimi, e sempre una nostra cara amica Lara ci ha riempito di gioielli e di orecchini. A noi farebbe piacere, per chiunque abbia partecipato, che possa trovarci, riceverà comunque un paio di orecchini. Grazie. 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 Grazie a tutti